Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Un'area storicamente un po' trascurata che diventa teatro di episodi di inciviltà. Il WWF e la cittadinanza morbeniese alzano la voce, chiedendo di tutelare e difendere il torrente Bitto. Pulizia e sicurezza le principali istanze portate avanti dal WWF Valtellina e Valchiavenna. La zona, denominata Pozza dei Ragazzi, in prossimità della passerella ciclopedonale che collega la via al Bitto alla via Prati, è spesso presa di mira dai giovani, protagonisti di atti di grave maleducazione. Ingiustificabili i comportamenti di queste persone che mettono a rischio l'ambiente e non hanno a cuore il bene comune. L'estate, quando comincia a fare le belle stagioni, si riempi di gente a prendere il sole, educata e non educata, perché purtroppo troviamo dello sporco delle bottiglie, delle lattine nel bordo del Bitto e oltre questo chiediamo di avere dei cestini per la differenziata, perché i cestini che ci sono adesso sono cestini singoli che purtroppo della gente incivile, invece di mettere quello che serve per i cestini singoli, mettono anche la differenziata e questo non è giusto. Purtroppo non ci si rende conto appunto che le bellezze che abbiamo a nostra disposizione sono di tutti, non sono solo del semplice utente che viene a prendere il sole, sono anche di quello che fa il bagno, di quello che passeggia, della persona anziana che si ferma un attimo a riposare sulle panchine, eccetera. E le problematiche sono quelle, diciamo, irrisolvibili della civiltà e dell'educazione. Spesso i ragazzi che vogliono fare un bagno nel Bitto sono ignari dei pericoli e peccano di superficialità. Il problema è che quando arrivano questi ragazzi cosa fanno? Vengono dopo mangiato e purtroppo c'è un orario che la congestione è pericolosissima. Cioè non tanto tempo fa era successo un ragazzino che per la congestione ha dovuto correre, già con l'emergenza coronavirus, ha dovuto correre soccorsi. Richiesti a gran voce interventi pubblici, ritenuti dall'Associazione Ambientalista particolarmente urgenti. Il comune potrebbe cominciare, la comunità montana, perché il Bitto è usato anche da cittadini extra morbegnesi, potrebbe cominciare con una serie di cartelli non tanto di divieto o di obbligo quanto di proposta positiva. Esempio, i rifiuti non lasciarli lì, portali a casa tua. Oltre ai due cestini che ci sono, che sono cestini lungo il corso del Bitto di tipo cittadino, secondo noi sarebbe importante rimettere in funzione i famosi contenitori colorati che si usavano alcuni anni fa prima della raccolta porta a porta. Il Bitto non sarebbe balneabile come torrente. Purtroppo qui la gente viene a fare il bagno e non c'è nessun cartello. Le Seriole, uno degli angoli più suggestivi e di tradizione del centro storico di Morbegno, dove scorre il Bitto, presentano un elevato grado di pericolosità. Abbandonato e senza un'adeguata sicurezza, il luogo è balzato alle cronache per eventi che hanno sfiorato la tragedia. Pensata anche una giornata di pulizia del torrente per un Bitto più pulito e sicuro. Io credo che se il Comune di Morbegno indicesse una giornata di pulizia del Bitto, prima di iniziare la stagione estiva dei grandi accessi e delle grandi affluenze, potrebbe essere anche qui un'iniziativa civica ed educativa.